good morning anche se direi più buonasera buon pomeriggio qui sono le quattro mister master maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch it's December 11 2021 it's Saturday in Naples 50 Fahrenheit around 10 Celsius questo significa che non è quella giornata veramente 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 mite o in questi giorni in questo periodo poi diciamo anche che quando giungerà l'inverno credo proprio che cambierò anche questa frase sul veramente 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 mite perché quasi sicuramente la cambierò perché anzitutto questa frase qui ce l'ho praticamente dall'autunno e quindi la devo sostituire per un fatto di tempo ma anche perché perché va avanti da molto tempo anche perché appunto ogni stagione cambio la tipologia di aggettivo quindi sarà così anche per l'inverno oggi credo che non pensava a nulla in particolare forse solo alla ancora i preghev extra la mia parte extra il tributo per il compleanno di Julie Cruz ricordo primo dicembre 65 anni quest'anno ma nel caso aggiungo tutto in descrizione tutte le informazioni e tutti i link poi mi scuso perché i sottotitoli di ieri e i report ieri che non ci sono ma purtroppo ho fatto un'impresa ieri ho caricato varie cose non ce la potevo fare ma vedo se più tardi riesco a caricarli ma comunque ormai non ha più senso perché cioè scriverli perché ancora non le ho scritte scriverli e caricarli ma ormai come dicevo non ha più senso perché il report è di ieri quindi ma comunque ci sono le informazioni in la descrizione di quel video quindi più di tanto non è un problema poi se mi vengono in mente altre cose le scrivo ovviamente più tardi in descrizione diciamo che è stata un'atmosfera un po' strana nel senso che c'è stato un sole frammisto a nuvole ma prevalentemente nuvoloso quindi non possiamo parlare assolutamente di those beautiful blue skies and golden sunshine atmosfera sempre caratterizzata dalle nuvole dalla pioggia sicuramente arriverà tra qualche ora ne sono quasi sicuro quindi tendenza ormai di a settimane si potrebbe dire che dire non posso dire la frase cult chi non l'ha imparata la scrivo in descrizione perché ovviamente non penso proprio che le cose cambino but said this so from the mythical window with the colored curtain I think anche se oscura comunque bellissima beautiful grazie alla luce questa inquadratura che permette di creare questa luce che illumina la tenda quindi comunque è bellissima and it's green roller shooter inutile dirlo con enfasi come sto ripetendo in questi giorni visto il tempo anzi penso proprio che da questo momento in poi lo dirò con enfasi solo quando ci sarà il sole però in qualche modo abbiamo qualcosa è vero non abbiamo those beautiful blue skies and golden sunshine ma comunque abbiamo qualcosa che li può sostituire e cos'è questo qualcosa e cos'è questo qualcosa golden and white balls and also the objects e quindi those beautiful giant magical golden magical balls che possono e bianche e palle bianche che possono sostituire si fa per dire però perché ovviamente non possono sostituire la loro grandezza those beautiful blue skies e golden sunshine un saluto anche poi dalla dalla that mythical window with the white with the white curtain the gray roller shooter and finally from my mythical keyboard yamaha dgx 640 ipg ipg 625 have a great day all the people follow the channel and the reports un saluto veramente a tutti so have a great day again have a great day so again have a great day all these people and everyone too ecco va